Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi vi accolgo direttamente sulla schermata del banner che caratterizza l'evento di oggi, ovvero nella versione JP è uscito il nuovo personaggio di Leila, che farà appunto da cornice per la seconda parte del sesto capitolo per quanto riguarda appunto la versione JP. Un personaggio che abbiamo visto dal trailer e che abbiamo visto in generale in gioco abbastanza interessante, con una meccanica di evasion e warp automatico del team che in diverse situazioni potrebbe anche risultare abbastanza interessante. Per cui ho deciso appunto di lanciare i miei classici 50 ticket per vedere cosa effettivamente riusciamo ad ottenere. Perché sto facendo il video e non sto pullando il live direttamente? Semplicemente per il fatto che il personaggio in questione è un personaggio nuovo, devo avere il tempo materiale, quindi nel pomeriggio, di poter fare le summon board qualora dovessi trovare le armi e la dovessi maxare. Quindi in quel caso dovrei appunto perdere un pochettino di tempo per fare le board, per fare tutto, e quindi provarla poi successivamente in gioco stasera al massimo delle sue possibilità, altrimenti non avrebbe assolutamente senso. Detto questo, ovviamente tutti i ticket che poi andremo a fare successivamente dal completamento del capitolo, Cosmos, Chaos, Coop, eccetera, eccetera, li tireremo in live, ovviamente, qualora non dovesse uscire nulla. Però per il momento voglio dare una base di 50 ticket come sempre. Ne ho spesi già diversi durante ovviamente queste live in questi giorni e sinceramente le mie risorse ne stanno un pochettino, diciamo stanno subendo un pochettino le conseguenze. E quindi di conseguenza vorrei un attimo frenare, vorrei un attimo frenare perché con questi ticket vorrei arrivare almeno fino alla fine del mese e poi successivamente recuperare con la prossima summon quando sarà possibile appunto farlo. Ma detto questo, ovviamente partiamo con il free ticket, con il free bronzino, ovviamente, che ci accompagna. Ok, ci vediamo stasera. Ok, ci vediamo.